Partiti! 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 E' stata entusiasmante, si può leggere in tanti modi questa corsa Tris, uno è senz'altro quello del fantastico finale che ancora una volta la generosità di Comiso Soul ci ha regalato ed entra nella trio, e quindi nel quartè e quindi nel quintè, e poi logicamente questo straordinario cash game che è il numero 13 che resiste all'attacco del numero 12 se vi fai e allora vedete come si miscelano e questo rende ancora di più onore alla scelta degli handicapper.